5 morti, 23 pazienti in terapia intensiva e 190.000 persone contagiate. Sono questi i dati relativi al bollettino medico dell'influenza in Puglia e pensare che in base a quanto fanno sapere dall'istituto epidemiologico regionale il picco non è ancora stato raggiunto. Ma non c'è da preoccuparsi troppo. Quanto ai decessi, come spesso accade in questi casi, si tratta di soggetti con patologie pregresse gravi che hanno influito sul decorso della malattia. Inoltre non si erano sottoposti al vaccino antinfluenzale. Stessa cosa per i ricoverati in terapia intensiva. Altre problematiche come diabete e obesità in questi casi hanno facilitato l'avanzare del virus. Un terzo dei pugliesi a letto sono bambini e adolescenti in fascia pediatrica 0-4 anni e in quella scolare 5-15 anni. Secondo i numeri del report redatto dall'istituto, circa 60.000 persone sono state colpite in queste fasce d'età. Maggiore facilità di contagio anche per le persone anziane. Quanto ai sintomi, nessuna particolare novità rispetto agli anni scorsi. Febbre, debolezza, dolori articolari, tosse e mal di testa, oltre al classico raffreddore che dura un po' più a lungo. Il decorso della malattia solitamente va dai 3 ai 6 giorni. Tra i consigli utili, oltre ovviamente alla vaccinazione, c'è quello di prestare la massima attenzione all'igiene. Gesti semplici come lavarsi le mani, in particolare dopo essersi soffiato il naso o dopo un colpo di tosse, rappresentano un'efficace azione preventiva per il controllo della diffusione del virus.